Arratto! Oh, ma che cazzo s'ho fatto? Papà, cosa succede il 14 febbraio? Io colo pescare in graneggiano in casa. Papà, dai, è San Valentino. Che mamma, vorrebbe anche lei una punto. Un'altra volta, ne avasti le punti che s'ho fatto metto in faccia. Papà, che su punto c'è un finanzamento di 12 milioni di anni a tasso zero. E in più, in questo periodo, i concessionari trattano benissimo il tuo usato. Ho capito, ho capito. Mari, questa sera ti tocca fare l'istraordinaria la peneta se vuoi la macchina.